Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La stampa internazionale, in particolare quella britannica, in queste ore ha riportato un fatto di cronaca assurdo. Secondo quanto appreso dai media britannici pare che una giovane mamma di 33 anni sia deceduta in quanto il suo cane di grossa taglia che aveva in casa l'ha aggredita. Tutto è successo nel corso di una crisi epilettica avuta dalla donna. La donna, Kelly Wiley, aveva in casa un cane XL Bulli, che molto probabilmente ha valutato erroneamente la situazione e ha scambiato gli episodi epilettici della donna per qualcosa di pericoloso. A quanto pare l'animale non apparteneva a nessuna specie di cane vietata nel Regno Unito. La donna durante la crisi epilettica sarebbe caduta a terra e a quel punto il cane si è gettato sopra di lei sbranandola. A nulla sono valse le grida di aiuto lanciate dalla donna mentre si sentiva male e mentre il cane la colpiva. Il fidanzato della vicina ha anche provato a soccorrere la donna praticandole il massaggio cardiaco ma purtroppo senza avere successo. In pochi secondi sul posto sono arrivati i medici con l'ambulanza che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso della donna. Al momento il cane è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti. Le autorità stanno continuando a sentire testimoni e vicini per ricostruire l'accaduto.